Raga, prima che inizia il video, se vi volete salvare, vi dico Il mio figo ha tipo sfondato tutto con le sue cuffie E poi ha fatto proprio tac il film Scusate, ho raffreddato Vabbè, comunque ha fatto proprio tac il film Il leggendario cacciatore Raga, comunque vi consiglio di salvarvi i timpani Se volete alla prossima volta lasciate altri like E ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao Tipo guarda ti lascia da due minuti Allora Bene, sta andando sotto, ottimo Ok, ora devo scappare da questi lupi Oh, via Cavolo Prendiamo la macchina Ehi, levati No, 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 no Non puoi scappare Oh No, no, no Devo correre, devo correre Cavoli Non scapperai Te la faccio vedere io Cosa succede Per metterti Ehi, ma quella cosa usa i palloncini Oddio Adesso ti uccido No, 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 no Beh, lui è l'unico intelligente che sa parlare Devo scappare il più velocemente possibile da qui Siamo Oh, stavoli No, no, no Stai lontano da me Ti ricordo Oddio Oh, un uomo colpiero Perfetto, perfetto Vediamo se posso trovare delle armi Aspetta, prima il lupo non mi dovrebbe vedere Se mi vede alla fine Oddio 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 Non mi vedo, se porcavano, non mi vedo Ti... ti ho visto Ok Perfetto Però volto, scioglio, scioglio, scioglio Dove prendere quella manco il fiero Ok Ma... 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 Ma questo lupo sa anche sparare Va bene Chi se ne frega Si, sa sparare Oh, perfetto Un'arma Morite Ah Tutto tuttutti No Brutti lupi Cosa? Dove sono? Wow Wow Sarà meglio andare da loro Ma io se vado Bene Bene o male che so costruire Molto anche bene Uh Cosa? Ma se non si era riuscita a sparare? Sì siamo sparati benissimo Oddio Uh Avevo un paracadute Lo vedi il mio? Lo vedi Morite Sì Un è andato Sì Un altro è andato E vai Il tuo voto è due Ok E ora Aspettiamo che i lupi tornino Beh che non li avrò uccisi Non li avrò uccisi perfettamente diciamo Bene Distruggiamo quest'albero All'improvviso il nostro eroe torna a casa sua esausto Però purtroppo i lupi Si furono sotturati E furono arrivati a casa sua Lui Lui Siccome stava chattando Con un tizio che non vedeva un sacco di lampi Infatti vorrei sapere Cosa sta a far Oh sveglia te Ah si è vero Comunque Noi riprendiamo la nostra storia da qui Via Bene Un lupo lo vorrebbe prendere da dietro Uno Beh Un altro lupo Beh lì sta chattando Non si sta neanche accorgendo Dei lupi Ancora voi Oh no 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 Via Ora stavolta non mi risparmi Via Brutti lupi Oddio Da quando i lupi sanno costruire Il nostro eroe Si sta costruendo da questi lupi Il lupo è allora scattato Per ritornare una terza volta Ancora sti lupi Cavoli ragazzi Sono veramente ritornati per la terza volta Vabbè il nostro eroe comunque sta ancora chattando Ma poi vorrevo capire che cosa le Vabbè Io ne ho mandato un whatsapp Ancora da dietro Ah no Dove sono sti lupi Oddio No Se ne ho appena accorto Salve Oh no Non si è ancora accorto dei lupi Sta continuando a chattare Oddio Un lupo Il lupo Sta appena puntando una pistola addosso Vabbè attraverso la porta Non è ludico che non lo vede Vabbè Devi aprire sta porta Apri la porta È il nostro Ok Oddio 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 Wow Un lancio a razzi Siamo seri Cosa è un altro lupo? Ok 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 Via Via Tutti Cosa Anche tu? No 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 Sì Non si Per Non ti permettere Guarda Giuro che ti sparo No Ma pistola Dietro anche tu? Senti Ma sti lupi Sono proprio intelligenti Cosa? Ah Sono intelligenti Non mi sembra proprio il caso di dirlo Che siete intelligenti Però Io 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 non devo fallire Ok Bene Allora Io lancio a razzi Tu non lancio a razzi Se non ti scansi Ti faccio saltare in aria Aia Ma chi l'ha registrato sta cosa? Sono Oddio mio Sono stati bravi Sti ragazzi Però dico io C'era un lupo che viene qua Scusate Continuiamo con la nostra storia Ehi voi Che credete di fare? Wow Il nostro Lancia Un'altra radio Oddio Cavoli I lupi stanno cercando di salvarsi Morite Sì Ok E ora Tu sei l'ultimo Wow Ma Che ci fa il nostro eroe? Sopra Un castello Oddio Questa cosa è troppo strana Comunque sentiamo le sue ragioni Cavoli Voglio Voglio festeggiare sopra un castello Sono troppo entusiasta Di farlo Edvivo Andiamo a vedere Beh Spero che Non sia Troppo rischioso Almeno Spero Ti prego Non sia rischioso Ti prego Ti prego Ok Andiamo Ma cosa Ciao